Qua quando cadi, mica quelli non mi hanno fulminato Qui sto ancora guardando i miei problemi Chi è che ti ha fulminato? Quelli di Gitori di Te mi hanno fulminato Mi hanno fatto pure una fiammata così Ma cosa ne hanno il BMW? Questo con il BMW è tanto Mi sa che un po' tutti Sì, comunque qua il ritmo è alto Sì, sì Tanti 600 Tolto quello con il Monster Però questi due qua, guarda Quello con l'SS e quello con l'SS E' anche quello con No, ma con tanti 600 Quello verde Comunque non so quanta gente gira Sotto uno 50 Sotto uno 50? Ho capito Saranno intorno ai 53 Comunque per fare uno 50 Sì, perché sarà più Sì, perché sarà più San Chiamecca Cazzo Allora sta lavorando Ma stanno lavorando Non�riamo a Peace Allora, deve lavorare anche tuo Manchiino Ah, parliè un paolo di bileni che vi lavoro Ma che c'è? Guarda, c'è un rinforzo Guarda, c'è un rinforzo C'è un rinforzo Bisogna un fischio Un po' perché non si è un rinforzo Non è? C'è qua? 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 Allora Max, vuoi fare un giro o no? Max, vuoi fare un giro? Ti presto la moto Tra il Ducati e il Suzuki Che moto vuoi? Ti presto la moto Poi con l'adesivo Simona Racing schizzi ancora di più Vai Max In che senso schizzi? Pirla che vai più forte Che cazzo pensi? Dai, apre questo bar O no? Andiamo di là dai Max, vuoi provare la moto? Ma che viaggia eh? Si lo so Oh io Ti prendi una brioche Non ti prendi una brioche Max, vuoi fare un giro? Dai!